Passiamo a Wolfsburg dove i campioni in carica affrontano il Borussia Dortmund decisamente lanciato nelle ultime settimane. Comincia benissimo la formazione di Jurgen Klopp con Zidane che mette dietro una gran palla per Lucas Barrios. Non sbaglia l'argentino a tu per tu con Diego Benaglio. Rivediamo il perfetto passaggio di Zidane e la trasformazione di Lucas Barrios. Qui ruba palla a centrocampo il Borussia Dortmund che si scatena in contropiede con Kuba Blasikowski. Attenzione alla velocità del polacco che mette in mezzo per Zidane. Zidane con un numero da circo riesce a trovare ancora Lucas Barrios e arriva il 2-0, l'ottavo gol per l'argentino. Ha cominciato con calma in questa Bundesliga ma si è acceso e non si ferma più. Anche un po' fortunato, della verità, Zidane con quel tentativo di colpo di tacco. Non si ferma il Borussia Dortmund con Hummels che prende il palo sulla respinta. C'è Patrick Ovomoyela che torna in gol, sognando la sua prima rete stagionale. Non sognava dal campionato scorso. Il terzino adesso ha sempre avuto una discreta propensione alla rete. Nel secondo tempo Makoto Assebe per Grafic, entrato nel secondo tempo. Realizza il quinto gol per il Wolfsburg in questo campionato. L'ex cannoniere della Bucca.